Salve, ci siamo impegnati a fare una campagna elettorale per le primarie a costo zero. Abbiamo già risparmiato sullo slogan, tant'è vero che lo slogan è no slogan. Adesso dobbiamo fare i manifesti. Abbiamo detto che ci candidiamo tutti insieme e quindi tutti insieme faremo il manifesto della campagna elettorale per le primarie. Prendiamo un foglio di carta bianca in formato A4. Fatto? Lo pieghiamo in due parti perfettamente uguali. Fatto? Prendiamo un paio di forbici e con le forbici tagliamo la parte centrale del foglio per costruire una cornice. Piano per evitare di tagliarci le mani. Ecco fatta la cornice del nostro manifesto elettorale. Con la cornice possiamo fare il manifesto elettorale con la nostra faccia o possiamo utilizzare questa cornice per inquadrare le parti che ci piacciono della nostra città o le parti che non ci piacciono della nostra città. Nella parte inferiore della cornice qui sotto possiamo utilizzare un hashtag che può essere De Caro Sindaco, la mia Bari per le cose più belle della nostra città, primarie Bari o comunque un hashtag che inventerete voi. Attraverso una macchina fotografica potremo inquadrare le zone della città o la nostra faccia, fare una fotografia e questi saranno i manifesti della nostra campagna elettorale per le primarie che metterete sulla mia pagina Facebook. Mi raccomando mandate molti manifesti, buona campagna elettorale a tutti.